il mio nome è kusuo saiki e ho dei poteri psichici santo cielo la serie tv è finita pensavo di potermi riposare invece ricominciamo stavolta ci vedranno in tutto il mondo grazie a netflix e mi faranno salire addirittura su un furgone rosa non se ne parla la mia vista a raggi x finirebbe per rovinare tutto sono successe tantissime cose il dispositivo di controllo si è staccato è stata una bella seccatura perché non controllavo le mie abilità per colpa loro qualcuno è rimasto di sasso la statua di nendo è stata esposta ho fatto un viaggio tra passato e futuro ho assistito al primo incontro tra i miei genitori due fratelli hanno lottato avere per fratello uno scienziato pazzo e un'altra seccatura accidenti quanta confusione voglio solo una vita normale e pacifica ma nessuno ascolterà il mio desiderio ci sono un idiota un illuso una bella ragazza una testa calda un ex delinquente una romanticona una ghiottona una tipa un maniaco un chiacchierone un riccone queste persone singolari mi complicheranno enormemente la vita di tutti i giorni e non solo ci saranno dei nuovi arrivati due in particolare il nuovo insegnante takumi iguchi sarà il nostro nuovo professore ed è molto diligente ho memorizzato anche l'indirizzo di casa già che c'ero è un bel problema poi c'è la nuova studentessa perché tutti questi nuovi compagni che ti è successo mi ha investita un carro funebre un altro personaggio pazzo sarà una bella sfida dopo il finale pare che trasmetteranno delle storie in cui le mie abilità extrasensoriali si riattiveranno non perdetevi gli episodi